Mr. Horrible Italia è stato eletto anche in questa nuova puntabile Iene di ieri 31 gennaio 2016 e la vittoria se l'è aggiudicata il buon Enzo Paolo Turchi, compagno di Carmen Russo. Vittoria sforgorante per il buon Enzo Paolo, ricordo che il concorso Mr. Horrible creato dal buon Onnis e dal buon Stefano Corti, Alessandro Onnis e Stefano Corti, la Iene 85 e l'altra Iena, non è altro che un concorso che si basa sull'ereggere il personaggio più brutto della settimana e secondo la classifica il più brutto sarebbe stato eletto come il buon, il simpatico, il magnifico Enzo Paolo Turchi. E' chiaro, se vuole scherzare, ci si riesce a scherzare, ci si riesce a divertire, grazie a questo piacevole, divertente, ironico, barioso e capace di intrattenere servizio di le Iene Show. Benissimo per gli utenti, veramente questo è un servizio pieno di ironia, un servizio pieno di sarcasmo, il sarcasmo, la sottile linea del divertimento che si percepisce e che si apprezza bene. Complimenti dunque a Onnis e a Corti, il video termina qua, iscrivetevi, commentate e un saluto.